Molto di più di furti occasionali o ladri improvvisati. La banda composta per la maggior parte da cittadini romeni era composta da professionisti dei furti di rame. Per capire le proporzioni del giro di affari basta il dato fornito dalla polizia. Il gruppo sarebbe stato responsabile del 90 per cento dei furti in provincia. Le conseguenze di questo sarebbero state disastrose. I danni nei confronti dell'azienda agricola e dell'Enel sono stati calcolati in diversi milioni di euro. Sette degli arrestati sono stati rinchiusi in carcere. Un ottavo si trova ai domiciliari. Un'altra persona è stata denunciata. La banda avrebbe operato con l'appoggio di ricettatori italiani non solo in tutta la provincia di Ragusa ma anche a Catania e Messina. La svolta nelle indagini era arrivata grazie al ritrovamento sul luogo di uno dei furti di uno scontrino e di un paio di guanti. L'operazione è stata inoltre portata a termine con il fondamentale contributo dell'Enel ma quello dei furti di rame per quanto fosse la specializzazione della banda non era la sola attività. oltre a rubare cavi infatti avrebbero anche preso di mira aziende agricole e zootecniche uccidendo gli animali direttamente sul posto e portando via solo carni pregiate. Tra gli obiettivi anche carburante, attrezzi agricoli, attrezzi per carpenteria, farmaci, auto e trattori.